Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo delle nuove New Balance Fresh Foam X-Trailmore V3 Un nome lunghissimo per una scarpa che ha un'ammortizzazione veramente impressionante Di cui adesso però vediamo insieme pregi e difetti all'interno della recensione completa Iniziamo come al solito guardando le caratteristiche di queste Trailmore V3 Per quanto riguarda la suola troviamo una suola Vibram a tecnologia XS Track Eco Con traction lag e un tassello alto 5 mm Un'intersuola in materiale Fresh Foam di New Balance Con un differenziale di 4 mm Il tutto per un peso di 320 grammi nella taglia standard 42 Adesso come abbiamo visto le caratteristiche iniziamo con i pregi e difetti Iniziamo come al solito dalla suola Qui troviamo una suola Vibram XS Track Eco Ovvero una suola che ha dalla sua sicuramente una grande morbidità Una suola che seconda molto bene il terreno E che ha anche un buon grip Ma il grip lascia un pochino a desiderare quando si parla di bagnato Su roccia bagnata vi assicuro tiene veramente poco 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 Mentre sul fango si difende ancora bene Perché comunque con un tassello da 5 mm E così tanta parte ampia dove va andare a scaricare il fango Diciamo che se la cava anche abbastanza bene Poi per tutto quello che riguarda l'asciutto Lì naturalmente non ha nessun problema Un aspetto che purtroppo è da segnalare che non mi piace È tutta questa parte di intersuola esposta Un'intersuola poi veramente molto morbido Vi assicuro che si sta andando a rovinare molto velocemente Io ho diverse parti dell'intersuola che sono proprio completamente rovinate Mentre la suola è ancora in perfette condizioni Quindi molto probabilmente alla lunga sarà rovinato più l'intersuola esposto della suola E visto che ne parlavamo Intersuola Questo penso che sia l'intersuola più alto che abbia mai provato O comunque che ci sia anche in circolazione Pensate parliamo di 44 mm Quindi quasi 4,5 cm di altezza sul tallone E di 40 mm sull'avampiede Cioè 4 cm È un'intersuola molto molto ammortizzante Davvero quando mettiamo il piede all'interno Sentiamo praticamente proprio il piede Che va su una superficie molto soffice Quando corriamo anche su terreni molto accidentati Non sentiamo nulla sotto il piede È veramente una grandissima ammortizzazione Questo però ha anche un grosso ma Ovvero la stabilità di questa scarpa Con un'altezza così alta Vi assicuro che se andate su dei terreni tecnici La scarpa tenderà a farvi scavigliare veramente veramente tanto Io non ve la consiglio per un terreno tecnico Ma dopo vediamo anche su che terreno è meglio utilizzarla Però in generale è una scarpa che tende molto ad ammortizzare Per intenderci se provate a correre sotto i 5,30 5 al chilometro Veramente sentirete che la scarpa non ha così grosso il ritorno E farete tanta tanta fatica Continuiamo, arriviamo alla parte superiore della tomaia Iniziando dal puntale Qui troviamo un puntale che è poco poco protettivo Davvero con questo puntale Se prendete dentro in qualche roccia, qualche radice Il colpo lo sentite abbastanza Mi piace poi che ci sia tutta una zona che si chiama To protect Che praticamente va a proteggere sia il nostro piede da eventuale urto Sia la tomaia da eventuali strappi o abrasioni Quindi diciamo che in generale probabilmente è anche una tomaia Che resisterà abbastanza nel tempo Tomaia poi molto molto traspirante Davvero io lo sto utilizzando in queste giornate veramente calde di fine giugno E vi assicuro che la traspirabilità si sente Una scarpa che utilizzata anche a temperature elevate Non vi farà particolarmente sudare il piede Mi piace poi che la traspirabilità Tutta la parte traspirante continui fino al tallone In questo modo si ha una scarpa che veramente è perfetta per climi caldi Arrivando al tallone Qui abbiamo un tallone abbastanza strutturato nella parte inferiore Dove c'è tutta questa zona nera un pochino più rigida E poi pian piano va a destrutturarsi Finché non arriva ad essere abbastanza morbido sulla parte superiore Per quanto riguarda l'imbottitura È un tallone comunque diciamo anche poco imbottito Mi immaginavo un pochino più di imbottitura Ma ce n'è poca Non che faccia male Comunque svolge bene il proprio lavoro Però me lo immaginavo un pochino più imbottito Arrivando a parlare infine di linguetta e lacci Linguetta molto classica Linguetta veramente simile a tante altre Nulla di che C'è proprio classicissima E anche i lacci sono molto molto classici Comunque entrambi svolgono bene il proprio lavoro Perché la linguetta non fa sentire la pressione dei lacci E si riesce ad avere un'allacciatura bella stretta e bella fasciante Quindi in generale comunque Parlando infine della soletta Soletta di proprietà New Balance Che comunque mi ci sono trovato bene È estraibile se volete metterne qualcun'altra Però io come dicevo mi ci sono trovato bene Andrei avanti a utilizzarla senza tanti problemi A livello di calzata Allora questa scarpa calza veramente molto ampia Cioè è una di quelle scarpe dove l'avampiede è molto generoso In generale comunque anche tutta la zona del mesopiede è molto generosa Tendenzialmente vi dico se avete degli avampiedi molto grossi Con questo non ci sarà bisogno di prendere un mezzo numero in più Se invece avete un piede molto magro molto stretto Fate attenzione perché potreste trovare una scarpa dove vi balla dentro il piede Perché comunque in generale come dicevo l'avampiede è veramente molto molto generoso Per che tipo di runner la consiglio? Allora secondo me questa è una scarpa che io non farei utilizzare a dei principianti Perché comunque come dicevo bisogna anche saperla portare Perché in diversi tratti c'è il rischio di scavigliare Quindi bisogna comunque avere una certa tecnica di corso Una certa precisione d'appoggio E ovvero un corridore che cammina tanto Questa scarpa è veramente perfetta per quei camminatori Che le gare le camminano praticamente per quasi l'80% del tempo Quindi in quel caso se siete questo tipo di corridore Veramente vi troverete con una scarpa eccezionale Con una scarpa molto amortizzante Con una scarpa che vi permetterà di fare tanti 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 chilometri Su che terreno ve la consiglio? Diciamo terreno abbastanza facile Eviterei l'alta montagna Eviterei tutte le parti rocciose Diciamo dei terreni comunque abbastanza semplici Strade bianche, single track, terreni belli battuti A livello di gare invece Secondo me con questa ci si può fare delle gare anche molto lunghe Ci si può passare anche i 200 km senza tanti problemi Però appunto l'importante è che non ci siano parti tecniche all'interno del percorso Detto ciò vi consiglio queste New Balance Fresh Foam X More Trail V3 Sì, a me sono piaciute Vengono vendute sul sito New Balance a 170€ Online si trova tranquillamente sui 130-140 Secondo me sono comunque delle ottime scarpe Se state cercando una scarpa con cui fare dei trail molto lunghi Con cui magari si fa fare anche 3-4 giorni camminando sempre sulla stessa calzatura Questa qua è perfetta È perfetta soprattutto anche per quelle persone che gli si ingrossa tanto il piede mentre corrono e camminano Quindi veramente una scarpa che mi è piaciuta Detto ciò ragazzi Sì, una speranza sia stato esaurente e esaustivo anche per questa recensione Vi ringrazio per la guardata E noi ci vediamo alla prossima Ciao Ciao